Sì, Tommy... Tommy, Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi. Fatti là. Giornatone al lavoro, eh? Che fai? Ancora svegli, è tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Tesoro, ti prego, non ora, non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio? Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è... È stupendo, ma... Credo che sia rotto. Cosa? No, 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 no. Dov'hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene. Allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Buonanotte. Temore.